Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, energie predestinate per il mese di novembre 2024. Abbiamo la carta del mago, amici del Sagittario, periodo di nuovi inizi, periodo di, mi viene da dire anche nuovi programmi perché quando c'è la carta del mago si parla anche di legge di manifestazione quindi per qualcuno è un po' che si sta dietro a questo nuovo inizio ed è anche una carta che parla di azioni, di movimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona se nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Io comunque nella descrizione inserisco sempre tutte le novità, voi potete aprire la tendina, dare un'occhiata e per ogni informazione aggiuntiva mi iscrivete. Bene, andiamo a vedere l'energia. Ok, partiamo subito con un cavaliere di bastoni, un 3 di bastoni, sì ma infatti questo cavaliere mi risuona molto con il mago, questo impeto, questa energia, questa voglia di galoppare la vita. Abbiamo il papa, un 5 di pentacoli, 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 un 5 di pent un 10 di coppe la carta della temperanza abbiamo un re di spade la carta della forza e un 9 di pentacoli ragazzi adesso andiamo a vedere carta per carta quali sono i messaggi diciamo che arrivano man mano poi andremo a focalizzarci sui vari settori quindi l'amore il lavoro l'economia e dicendo partiamo da questo cavaliere di bastoni vi dico lo sento collegato con il mago c'è come questo impeto questa voglia di andare avanti potrebbe essere anche una nuova persona per qualcuno un nuovo progetto un nuovo modo di affrontare la vita la voglia di combinare qualche cosa di bello andiamo a vederlo 3 di coppe e 3 di spade devo vedere tra di bastoni ma tra di coppi tra di pentacoli poi li avete tutti abbiamo un 9 di bastoni e un 7 di spade ragazzi qui per qualcuno ci potrebbe essere aria di tentazione extra coniugale potrebbe esserci aria di incontri si dice furtivi perché comunque il cavaliere di bastoni rappresenta proprio l'amante non so se siete voi che siete in quella modalità o se potrebbe arrivare effettivamente e vi dico così perché perché tra di coppe richiamo un po l'energia 3 e poi c'è un 3 di spade siccome qui abbiamo anche il 9 di bastoni 7 di spade come l'idea che potrebbero esserci delle bugie dei dei sotterfugi per riuscire mi viene da dire a vedere questa persona a incontrare questa persona portare avanti un certo tipo di conoscenza adesso dipende se siete single o già in relazione quello lo vediamo dopo non mentite su quello che volete questo è un messaggio che vi posso dire adesso così allora 10 di coppe re di coppe 2 di pentacoli allora devo dire che c'è di nuovo questa sorta di è un richiamo se vogliamo a fare le cose fatte in un certo modo abbiamo sia il papa che la carta del 10 di coppe mi parlano di ufficializzazione di creare una famiglia di amore innamoramento anche con il re di coppe sento che un po quello che vorreste un po quello se non è il matrimonio in sé perché il papa normalmente rappresenta quello è un'unione una stabilità potrebbe anche fare il fermento a una convivenza però è un po come se qualcuno fosse stufo di fare su e giù piuttosto che di aspettare piuttosto che di doversi destreggiare o di dover dire bugie o sapete su sette di spade mi pesa datemi una carta per il sito di nuovo cavaliere di bastoni e nove di spade di nuovo intendevo il cavaliere di bastoni credo che ci sia un tema all'interno della coppia se siete in coppia che avete paura che si ripresenti oppure siete voi ripeto che state ripresentando una dinamica di comportamento all'interno della coppia non vedere il 5 di pentacoli regina di spade e cavaliere di pentacoli è come se ci fosse una delusione nell'aria ma mi risuono un po con questo tra di spade o è la paura di deludere qualcuno o è il fatto che potrebbero venire a galla queste mezze verità mezze bugie o bugie complete insomma una sorta di timore e sento che potrebbe inficiare nel vostro modo di comunicare come se diventaste più freddi per paura di farvi scappare qualcosa devo vedere 10 di coppe comunque una carta che si ripete 4 di pentacoli stella e matto è come se si cercasse l'unione ma c'è questo timore che qualche faccenda qualche persona possa ritornare possa fare capolino o c'è come un qualche cosa che si possa scoprire andiamo a vedere la temperanza è spiegata dal papa nuovamente altra carta che si ripete e il diavolo al contrario se ci sono delle questioni economiche legate al matrimonio con questo diavolo al contrario il 7 di spade ragazzi fate ben attenzione a tutelarvi perché avete anche un 5 di pentacoli che normalmente si tratta anche di qualche delusi di qualche carenza economica o perdita economica non so può essere che per esempio dobbiate vogliate più che dobbiate vogliate investire sulla relazione quindi magari vi capita di spendere dei soldi per comprare x cosa e poi vi rendete conto che non è quella cosa giusta non era la cosa giusta da fare per ormai i soldi sono spesi stessa cosa se fosse per una questione lavorativa ponderate bene per qualcuno si tratta di mettere in equilibrio la parte dell'angelo e la parte del diavolo la parte del bianco e la parte del nero sia che sia lavorativamente parlando sia che sia caratterialmente parlando a livelli di pensieri e come perché qui c'è una carenza e qui va riequilibrata ok può essere utile anche un confronto di gruppo che vi dia nuove prospettive nuovi modi di vedere le cose andiamo a vedere il re di spade perché può far riferimento a uno psicologo siccome sulla stessa linea avete anche il papa che è il maestro spirituale è colui che diciamo traduce i messaggi dall'alto e qui avete anche un re di spade potrebbe essere utile per qualcuno se non proprio andare e prendere quindi delle degli appuntamenti fare delle sessioni individuali anche semplicemente magari ascoltare dei video di psicologia su temi che a voi servano per capire come magari mettere in equilibrio appunto certi lati di una situazione o della relazione però è la psiche che deve lavorare qui diciamo che mi colpiscono il 9 di bastone al contrario e il 5 di pentacoli c'è come una paura di rimanere in carenza o una paura di andare ancora di più in carenza ma vedere il re 4 di bastoni e morte sì come tagliare con i vecchi schemi di pensiero per trovare un equilibrio interno vi dico la lettura finisce con la forza il 9 di pentacoli e sono due carte bomba sono due carte che mi parlano di abbondanza economica di forza di carattere forza morale forza di volontà coraggio azione movimento indipendenza sono due carte veramente bellissime adesso andiamo anche a vederle però è come se avessi bisogno di staccarvi da un certo tipo di carenza sensazione di da solo o da sola non ce la faccio oppure devo fare più nero che bianco perché sennò non ce la faccio e invece secondo me calibrate bene qui ho l'idea che in casa vi rubino dei soldi va bene cioè nel senso poi prendete sempre le cose che dico con le pinze però mi fanno vedere qualcuno che apre un cassetto prende da un portafoglio e intanto si guarda intorno come se qualcuno cioè per stare attento che non arrivi nessuno vi posso anche dare i dettagli della cucina è una cucina tipo di legno scuro ok io vedo solo il cassetto però e ai pomelli bianchi o trasparenti comunque chiari pomelli e non maniglie fatemi sapere chi ha la cucina così ok va bene la forza ok cinque di coppe e sole voglio ancora una carta per il nome di tentacoli ho la sensazione che tutto questo tema potrebbe essere anche legato a un figlio in particolare che potrebbe aver bisogno di aiuto ed è quindi lì il calibro quello che do a me è quello che do il figlio o però io proprio la sensazione ragazzi che qualcuno vicinissimo a voi possa ogni tanto insomma sottrarvi qualche cosa fate attenzione mettete le trappole allora partiamo dai singoli qui se siete single vedo che ci potrebbe essere divertimento nel mese ma si ferma lì cioè non sento che la cosa possa andare oltre anzi vi dirò ecco come la sensazione che le carte vi vogliono consigliare di non abbassare le difese ok di mantenere le antenne allerta di riconoscere a voi stessi che quella è una bandiera rossa e non sottovalutare i segnali perché poi siamo noi che li sottovalutiamo poi dopo ci diciamo a se me ne fosse accorta prima no è che ce ne siamo accorti abbiamo ignorato però vabbè situazione un po un po così se siete single devo dire che si potrebbe esserci del movimento ma ma niente di che c'è più che tutto perché mi sembra che questa persona che possa arrivare insomma aspettate fine mese prima di aprirvi completamente con questa persona prima di a passare le difese se siete in una relazione ecco allora se state facendo dei progetti di coppia credo che la persona a parte che cercate di capire subito chi paga che cosa se per esempio fosse un viaggio ognuno di due si paga il suo tu paghi il volo per esempio e io pago l'albergo cioè non lo so però definitelo subito questo e perché come la sensazione che ci sia qualche cosa che non vi verrà detto o potrebbe essere qualcosa che verrete a scoprire non lo so come la sensazione che ci siano dei sotterfugi all'interno della della relazione di coppia e potrebbe essere utile effettivamente cercare una guida esterna che vi rischiari un po la mente e che vi dicano ascolta guarda che questo è quello che vuoi vedere tu io da esterno vedo questa dinamica ti risuona aspetta perché perché sì perché c'è un qualche tema probabilmente con il vostro partner la vostra partner che un po vi vi rende insicuri vi rende insicuri e c'è bisogno di di lavorare se volete diciamo vivri la relazione in modo migliore se siete in una relazione più o meno nì vi dico le cose inizio mese potrebbero essere un po difficoltose però poi ho la sensazione che cambino cambino un po come vibrazione c'è come una nuova mi viene da dire progettualità all'interno di questa potenziale relazione vi dico determinate subito quali sono le vostre regole allora per quello che riguarda invece andiamo verso andiamo verso i soldi subito allora per quello che riguarda l'economia ragazzi fate molta attenzione come vi dicevo è questione di equilibrare l'ufficiale con l'ufficioso è questione di aggiustare bene le spese questo posso aspettare vediamo il mese prossimo questa è una spesa che posso evitare tolgo la spesa perché magari non mi serve più e vedo se puoi riattivare per esempio l'abbonamento piuttosto che non lo so Amazon Prime più avanti e invece quella roba linea io ho proprio bisogno è il caso che io investa in quella cosa lì c'è un po' da riassettare c'è anche un 5 di pentacoli quindi è vero che potrebbe arrivare qualche spesa imprevista tenetevi sempre un piccolo polmone come margine per quello che riguarda diciamo le persone che vi stanno intorno allora devo dire che tutto sommato non va male ci potrebbero essere come dei festeggiamenti intorno a voi ci potrebbero essere sì come delle riunioni familiari anche per qualcuno se per caso avete i genitori separati ed è tanto tempo che non vedete vostro padre potrebbe esserci come un riavvicinamento un incontro col papà questo è un messaggio che ovviamente è molto specifico non so per quanti possa risuonare comunque è come se fosse un nuovo inizio di un nuovo capitolo qui c'è un po' di gioco un po' di intrattenimento mi viene da dire e poi ad un certo punto ma perché c'è il passaggio sia con il papa che mi parla di crescita spirituale e qui è anche la crescita mentale che io con il re di spade metto in ordine i miei pensieri trovo la mia stabilità e capisco che cosa devo lasciare indietro sia la morte che il re di spade sono due carte che appunto hanno le spade tagliano andiamo sul lavoro allora sul lavoro se siete disoccupati innanzitutto ho la sensazione che qualcuno penserà di diventare autonomo qui abbiamo un bellissimo nuovo di pentacoli qui abbiamo un matto che mi fa pensare come qualcuno che si voglia buttare e creare la propria solidità la propria stabilità perché man mano che la mente si ordina anche i vostri obiettivi e le azioni che andrete a fare per ottenere quello che volete ottenere prenderanno un ordine più logico ok? qui abbiamo anche la stella no ragazzi devo dire che è positivo per il lavoro c'è un nuovo lavoro in arrivo per qualcuno potrebbe iniziare come un lavoro tipo a breve termine come tre mesi ipotesi più forse un mese e poi improvvisamente vi offrono il tre mesi più tre mesi piuttosto che il sei mesi più sei mesi ho come l'idea che siate talmente buoni in quello che fate talmente bravi talmente scaltri che potrebbe effettivamente essere che vi facciano questa offerta appunto se siete dipendenti devo dire che tutto sommato è un buon mese andrà avanti bene quello che vi posso dire è fate attenzione alle parole a quello che dite meglio dire meno che troppo alle volte l'ego ci frega perché noi vogliamo far vedere che sappiamo allora diciamo quello che sappiamo invece molte volte è meglio star zitti non che ci siano particolari problemi ma potrebbe sfuggirvi qualche cosa che era meglio non farsi sfuggire però tutto sommato è un momento diciamo di calma non nego che per qualcuno ci potrebbe essere un nuovo inizio in un nuovo reparto in un nuovo laboratorio in un nuovo centro in un nuovo osservatorio laboratorio cioè vedo come un microscopio no per chi è autonomo allora ci vuole ancora un po' di grinta ragazzi ma siete sulla buona strada soprattutto se avete deciso di lanciare un nuovo prodotto piuttosto che un nuovo servizio o se avete deciso di intraprendere qualche movimento diciamo di marketing per far sviluppare la vostra azienda le carte sono positive diciamo che magari i risultati non si vedono immediatamente ma si si vedranno nel caso abbiate progetti dunque mi viene da dire non fate niente di diverso da quello che state già facendo cioè se il progetto è già in piedi continuate così com'è non aumentate non togliete niente se è solo un'idea fatela rimanere ancora un'idea per il mese di novembre perché è come se aveste ancora bisogno di definire certe cose più che tutto è l'equilibrio qui con la temperanza e proprio è che da un lato abbiamo il diavolo girato al contrario e di qua abbiamo il papa cioè il diavolo è l'acqua santa no? come si dice c'è come questo aspetto da ricalibrare prima di spingersi oltre per quello che riguarda il vostro stato psico emotivo del mese devo dire ragazzi che tutto sommato non è male soprattutto se deciderete di approcciarvi a questa guida a questo canale di psicologia a voi quello che serve in questo momento è mettere in ordine la mente ok? perché ci sono troppi pensieri un po' contorti qualcuno ve l'ha venduta vi ha confuso un pochettino le idee su come dovrebbero essere certe cose e invece riordinando i pensieri ricatalogando le emozioni i bisogni i desideri vi dicendo questo vi aiuta a trovare una maggiore forza una maggiore indipendenza devo dire che terminare con la carta della forza che è una carta di generosità e di apertura è un buon modo di terminare la lettura è vero che solo al contrario poi abbiamo un 5 di coppe sento come se ci fosse ancora qualcosa da elaborare focalizzatevi su quello che ancora c'è in piedi anche qui se ve lo devo dire tutta qui c'è un 10 qui c'è un matto quindi è come chiusura e apertura qui ci sono comunque carte che mi parlano di maestri di guide di qualcuno che conduce di qualcuno che accompagna è come se aveste forse bisogno di accompagnarvi meglio prima farsi accompagnare e poi accompagnarvi cioè mi do questa regola perché so che io in questa regola ci sto bene è quello che fa per me e la seguo andiamo a vedere Osho che cosa vi dice fiducia giochi politici giochi politici un sette di spade che avete già qui e la fiducia un fante di coppe eh sì anche il matto è una carta che parla di fiducia vi dico diventate osservatori nel momento in cui diventate osservatori vi rendete conto delle dinamiche di comportamento e potete agire in modo diverso qui in realtà la carta vi parla di aver fiducia nella vita in sé come se ci fosse un karma un destino effettivamente che poi agisce però ecco non per questo ehm devo essere sprovveduto nei confronti della vita quindi se arrivano delle bandiere rosse che siano in amore che siano sul lavoro è importante riconoscerle e ehm ok ci sono la vedo so che è così so che quella è già una bandiera rossa non faccio finta di non vederla mi dà un numero di bandiere e quando arrivo al numero prendo una decisione io questa carta qua insieme a sette di spade ripeto non lo so chi è che potrebbe avere la relazione extraconiugale piuttosto che degli interessi ehm poco chiari insomma magari sulla sfera lavorativa però ho anche la sensazione che possa essere un vostro specchio cioè come se vi adattaste come se vi plasmaste in base che avete di fronte per paura di non piacere per paura di eh essere abbandonati per paura di essere rifiutati per paura di non essere all'altezza per paura di non essere amati e via dicendo fatemelo sapere nei commenti bene ragazzi questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti fatemelo comunque sapere nei commenti per sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email se invece poi volete andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale detto questo io vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao grazie a tutti